se ne parlava da giorni ed ora è ufficiale con un comunicato stamattina redbird ha ufficializzato il ritorno di slatan ibrahimovic in rosso nero quindi in società sia per la parte operativa per quanto riguarda redbird e sia per quanto riguarda quella ac milan allora per quanto riguarda redbird lo svedese ricoprirà il ruolo di senior advisor della proprietà invece per quanto riguarda la parte sportiva e quindi quella ac milan ricoprirà il ruolo di senior management in cosa consiste che in ac milan ibra ricoprerà il ruolo di senior advisor della proprietà quindi che è guidata da redbird che comprende new york yankies che sono uno dei partner sportivi di più lunga data di redbird lavorando in stato con coordinamento sia con la proprietà che con il senior management di ac milan ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club e contribuirà a forza rafforzare la cultura vincente il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di ac milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica incluso il nuovo stadio del club questo si legge nel comunicato redbird ufficializzato qualche ora fa quindi lo svedese entra a tutti gli effetti e quindi ritorna ad essere un componente di ac milan non più come calciatore come giocatore ma come dirigente quindi questo è quanto riguarda la parte societaria per quanto riguarda invece il campo giocato leao a newcastle ci sarà non sappiamo se dal primo minuto ha recuperato ieri ha svolto l'intera partitella che era stata organizzata a milanello contro la primavera il test è stato superato a pieni voti e quindi il calciatore portoghese e portoghese rientra a tutti gli effetti nella a disposizione di stefano più quindi sarà convocato per la partita in inghilterra di champions è molto probabilmente ma non è ancora sicuro partirà dal primo minuto per quanto riguarda invece al reparto difensivo chi è ancora in dubbio è molto probabilmente teo hernandez sarà schierato e quindi adattato ancora da difensore centrale accanto a tuo amore con florenza sinistra e calabre a destra comunque in questi due giorni si valuteranno le condizioni delle calciatore danese e quindi si troverà una decisione si prende una decisione finale se convocarlo e portarlo a newcastle e quindi vedere se a disposizione oppure no però per quanto riguarda al momento è più no che sì invece il leao è convocabile e bisogna solo capire se partirà dal primo minuto nella partita fondamentale di champions league per il cammino europeo del milan